Ok, continuiamo con il nostro attrezzo di centraggio, con il pezzo numero 7, chiamato perno di guida. Questo sogrezzo viene ricavato da un taglio in magazzino di un tondo di Fi 25x90, un acciaio al carbonio 10. Allora, come è questo perno di guida? Allora, noi vediamo che è quindi un pezzo tornito, che ha una filettatura in cima, sul lato destro, qui nella figura, è un M6, passo normale. Poi ha una filettatura di 11, c'è un raccordo, poi abbiamo una scanalatura e una gola di scarico. Le gole di scarico, ve l'ho già detto anche nel precedente, hanno delle dimensioni che devono essere del diametro leggermente inferiore al diametro di nocciolo. Comunque, le gole di scarico sappiate che sono normalizzate in meccanica, cioè questa gola di scarico viene disegnata in un modo abbastanza particolare. Qui dentro noi la faremo molto rudimentalmente, però le gole di scarico delle filettature hanno delle normative ben precise, giusto per non dire fesserie. Lasciamo approfondire quando vorrete approfondirlo. Poi abbiamo una parte cilindrica diametro 8 con una tolleranza a meno 001 e meno 003, parliamo di centesimi. Abbiamo un raccordo raggio 5, poi abbiamo un diametro di 10, poi abbiamo una testa che va a fare battuta da qualche parte con due svasature da 1 per 45 di una larghezza di 6, con un diametro di 20, poi ritorniamo a un diametro di 12 e così via. Allora, dunque, come fare questo qui? Come vi ho già detto, io sono molto più veloce a fare una procedura di estrusione di parti cilindriche, quindi, e sovrapponendoli l'una all'altra. Qui non abbiamo neanche un'eccentricità, per cui io, in rispetto a quelli, sono abbastanza veloce. Ora, però, come vi ho fatto vedere in questo lavoro, questo qui, ok? Anche in questo, voglio ricimentarmi in un'altra strategia. Quindi, vi ripeto che le strategie di lavoro sono personali, l'obiettivo è quello di fare un lavoro che poi non venga sicuramente non apprezzato da chi dovrà proseguire e attaccare il vostro lavoro a delle sue parti, quindi, l'inserimento del vostro lavoro non deve andare a creare problemi in un assieme, dove magari ci mettono mani altre persone. Quindi, la strategia di lavoro deve essere sempre lineare, però non è sempre unica, quindi ha varie possibilità. In questo caso noi partiremo con una rivoluzione, quindi faremo tutto per rivoluzioni. Quindi noi abbiamo diametro 12, un diametro 20, un diametro 10, poi 8 e così via. Allora, così farà, si va a fare quindi un nuovo, standard IPT, crea, ricordo sempre dovete lavorare nel progetto, così siete già nella cartella giusta, poi lo salviamo e gli diamo il nome di, già non lo ricordo più, se mi danno la pensione ci sarà pure un motivo, eh? Quindi è perno di guida, quindi perno di guida. Ok, lo salvo, quindi ho già fatto una parte di salvataggio, a questo punto vado a fare un schizzo 2D, vado a scegliermi un piano, per esempio questo, uno vale l'altro in questi casi, dopodiché mi faccio un asse che partendo da qui lo faccio lungo, proprio 78 per avere più o meno le proporzioni di quello che mi interessa. Poi questo signore qui lo seleziono e gli dico che lui è un asse di simmetria. Ok, poi tolgo ogni cosa in modo tale che le linee che farò ora saranno, ehm, saranno così, anzi la prima cosa che farò è fare un archetto, da qui a qui farò questo archetto, ok? Ok, poi farò, partirò e farò una linea che arriva qui, poi qui, poi qui, poi qui, poi questa qui mi sa che è più piccola, poi arrivava qui, poi, oh, sto facendo dimensioni troppo piccole. Cominciamo già a dare delle misure, per esempio, per evitare di, allora abbiamo un Fi12 e poi un Fi10 e un Fi20, quindi questo qui da qui a qui, questo è l'effetto del, quindi questo qui è un Fi12, questo è un 12, ok, poi questo qui lo sistemeremo, ok, facciamolo così per ora, questo qui abbiamo detto che è un Fi20, poi, cosa succede? ok, si è incastrato qualcosa, questo è un 20 e questo qui è un 10, qui, 10, ok, già che ci siamo gli diamo anche, allora, sistemiamo anche questa situazione qui, quindi, andiamo a vedere, qui abbiamo un 6 più 6, ok, e poi abbiamo un, una parte di, quindi 78 meno 12 meno 30, va bene, andiamo dopo, qui, andiamo a sistemare qui, andiamo a sistemare qui, andiamo a spostare qui, e questo qui diciamo che è come questo, ok, si stimiamo anche questo, gli diciamo che deve coincidere questo punto con questa linea, ok, e poi abbiamo questo, questa misura da qui a qui che è un, 2, ok, questa parte qui la tiriamo un po' più lunga, arrivare fino al 78, se ne vuole, dopo andiamo a fare le misure, allora, andiamo a vedere, andiamo a vedere da questa parte che abbiamo un M6, quindi un diametro 6, con un raccordo di 1, per 11, poi una gola da 2, di 4 e mezzo, allora, abbiamo anche qui un archetto, che va da qui a qui, e fa così, poi, abbiamo, abbiamo, scusate, prendiamo una linea, che va da qui a qui, poi scende, poi scende, poi sale, poi arriverà, più o meno qui, andremo a chiudere qui, andiamo subito a dirgli che questo qui facciamo coincidere questo con questo, andiamo a vedere le quote, abbiamo allora, un 1 qui, e un diametro 6, per 11, quindi abbiamo un 1, che va da qui a qui, poi abbiamo un diametro, fi 6, poi abbiamo un diametro 4 e mezzo, ok, poi abbiamo un 11, da qui, a qui, qui, qui tiriamo, perché si è incasinata, qui abbiamo una gola di 2, e qui abbiamo un diametro 8, 8, ok, ci manca di sapere adesso, la misura di questo qui, noi sappiamo che, da qui a qui è 30, l'11 era da qui a qui più 2, questo qui dovrebbe essere 17, praticamente, poi abbiamo i raccordi, 1, 2, 3, e poi abbiamo le cimature di 1,45, allora, abbiamo detto che, dovrebbe essere 17, questo qui, ok, benissimo, allora, è tutto dimensionato, ci abbiamo i raccordi da fare, vabbè, facciamo i raccordi, possiamo fare anche dopo, in 3D, oppure facciamo, raccordo, raggio, punto 5, punto 5, e ce l'abbiamo, quindi, raccordo, punto 5, ce l'abbiamo qui, ce l'abbiamo qui, e ce l'abbiamo qui, allora, il raccordo è un raggio, la cimatura, invece, è questa qui, questo è lo smusso, o cimatura, quindi, cimatura o smusso, lo smusso è di 1, quindi, è di questa prima, categoria, dove, x è uguale a y, ok, la distanza è di 1, ok, ed è qui, tra questo, e questo signore, tra questo, e questo signore, chiuso, concludo lo schizzo, chiedo di fare la rivoluzione, ha già capito tutto, gli do l'ok, praticamente, il pezzo è finito, avrei, dopo lo farò, farò l'esperimento che, c'è inossidabile, ok, adesso andiamo a fare la filettatura, che ci manca, questa filettatura, che l'ho capito, è essere M6, però, noi vogliamo un profilo, isometrico, dimensioni, M6, passo normale, a noi ci sta bene, applica, ok, il nostro pezzo, è così determinato, ok, la filettatura, è cosmetica, come vi ho già accennato, più volte, e il nostro pezzo, andiamo a verificare, per un'ultima volta, se è realmente terminato, parerebbe, di sì, se poi, come capita spesso, io sbaglio, ci sarà sempre, una buona anima, tra di voi, che siete, ormai, a questo punto, chiaramente, chi ascolterà questo, tra un anno o due, tutto quello che sto dicendo, non ha senso, però, ad oggi, siete quasi 500 iscritti, allora, il nostro lavoro, è qui terminato, allora, adesso vi dico subito, che, come per l'alberino, l'alberino, che ho fatto, precedentemente, lo andrò, a rifare, questo lavoro, metterò, un video bis, ok, se questo qui, è il video, 8, farò, un video, 8 bis, dove io, praticamente, non parlerò, ma vi farò vedere, in velocità, come, realizzare, come si realizza, quindi, in tempo macchina, di un operatore, di CAD, diciamo, normale, ok, quindi, vedrete, il tempo, che io ci impiego, voi, parametratevi, cercate di capire, a che livello siete, di velocità, importante, comunque, arrivare, adesso, non fossilizzatevi, sul discorso, della velocità, il discorso, è quello, di arrivare, ad avere, una buona padronanza, per la velocità, ci vorrà del tempo, perché, è legato molto, alle scelte di strategia, qui, vi ho fatto vedere, una strategia, che per me, non è molto consueta, quella della rivoluzione, però, però, avete visto, che la fin fine, non è così lunghissima, e, va bene, allora, al prossimo video, e, buon corso, ah, una cosa, che non è scritto, per favore, si scriva, e se vi ha più, vi è piaciuto, lasciate un commento, pure, grazie mille, arrivederci,